quindi ripasso generale il passo generale punto per punto pronti allora il decadentismo il decadentismo è stato il modo con cui alcuni intellettuali la borghesia diciamo così indicava in modo dispregiativo i poeti e gli artisti dell'epoca siamo a metà ottocento fino ottocento ma questi artisti questi poeti erano ben contenti di poter utilizzare questo termine e quindi si sono autodefiniti anche loro decadenti eccoli qua i poeti decadenti andiamo subito a questo tema l'arte per l'arte i poeti decadenti dicono che l'arte non deve avere un fine non deve avere uno scopo l'arte per l'arte cioè l'arte serve solo a soddisfare i bisogni estetici dell'umanità e quindi non deve e l'artista deve essere completamente libero e indipendente poi andiamo a baudelaire baudelaire e andiamo alla il mio cuore messo nudo il mio cuore messo nudo è il diario che baudelaire ha scritto nel corso della sua vita questo diario è stato censurato per circa 100 anni non è stato pubblicato perché perché baudelaire prende si scaglia contro la morale della società contro la morale dell'epoca per esempio lui dice che nel in ogni uomo ci sono due postulazioni simultanee l'una verso dio l'altra verso satana quindi lui dice che il bene e il male stanno sullo stesso piano sono due facce della stessa medaglia e che ogni uomo ha al suo interno delle caratteristiche buone verso dio e diciamo così basse cattive cioè verso satana ed è chiaro che questo non faceva piacere e non faceva piacere soprattutto alla chiesa cattolica poi parla dell'esempio della puttana ville dieu che si scandalizza quando vede le statue degli antichi scultori greci che rappresentano uomini donne nudi ma lei è una prostituta quindi diciamo che questo suo scandalizzarsi è una menzogna è una ipocrisia e allora baudelaire dice che tutta la borghesia dell'epoca è ipocrita è come la puttana ville dieu che si scandalizza no ma poi dietro la facciata ne combina di tutti i colori e fa delle porcherie poi passiamo a spleen la prima poesia che abbiamo studiato di baudelaire il tema di spleen lo ricordo è il conflitto fra la speranza che ha le sembianze di un pipistrello e l'angoscia per baudelaire il mondo è una prigione la pioggia rappresenta le sbarre di questa prigione e alla fine però l'atroce angoscia despota pianta il suo stendardo nero sul cranio di baudelaire cioè vince ma è una vittoria definitiva no perché altrimenti baudelaire si sarebbe suicidato diciamo che questa è una poesia che riguarda i momenti bui che possono capitare nella vita di ciascuno poi abbiamo l'albatro l'albatro la strofa più importante dell'albatro è questa la conclusione il poeta è simile al principe dei nembi che abita la tempesta e ride dell'arciere esiliato al suolo in mezzo ai fischi le sue alida gigante gli impediscono di camminare il poeta deve essere libero come un altro un albatro perché nel suo mondo il poeta può fare quello che vuole ma quando viene catturato viene catturato dalla critica dagli uomini che non lo capiscono dalla società che non capisce l'arte il poeta cioè l'artista non può più muoversi è prigioniero e quindi l'arte finisce l'arte ha bisogno di libertà la nostra costituzione l'articolo 33 dice l'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento perché perché l'italia usciva dal fascismo una dittatura che impediva agli artisti e agli insegnanti di esprimersi anzi costringeva gli artisti e gli insegnanti a dire quello che il regime voleva che fosse detto quindi è come dire li metteva li teneva soggiogati corrispondenze corrispondenze è la poesia sul linguaggio della natura qui dice che la natura è un tempio quindi vuol dire che è sacra ma se è un tempio ci sarà un sacerdote e questo sacerdote è l'artista perché l'artista è il sacerdote della natura perché i sacerdoti hanno il compito di tradurre il linguaggio di dio agli uomini e l'artista ha il compito di tradurre il linguaggio della natura alle persone normali attraverso le sue opere d'arte ma qual è il linguaggio della natura su quali principi si fonda la sua grammatica la grammatica della natura è la sinestesia eccola qua ci sono dei profumi freschi dolci oboi vere di altri corrotti espansione delle cose infinite la sinestesia che cos'è la sinestesia la sinestesia è l'attribuzione di una qualità a un oggetto che non può avere quel tipo di qualità per esempio urlo nero è una sinestesia creata da un poeta che si chiama quasimodo urlo nero l'urlo si ascolta mentre il colore si vede quindi sono due cose che non vanno insieme ma se voi chiedete ai vostri professori di fisica voi vedrete che vi spiegheranno che il colore non è altro che una frequenza è una frequenza alla fine è lo stesso tipo di identificazione di un suono quindi in fisica la misurazione dei suoni e dei colori avviene attraverso lo stesso sistema cioè un sistema di frequenze molto interessante curioso passiamo adesso a giovanni pascoli giovanni pascoli ha scritto tante poesie noi ne abbiamo viste diverse poetica del fanciullino questa non è una poesia ma è una sua filosofia pascoli dice che in ogni uomo esiste un fatto un fanciullino che rappresenta la capacità innata ingenua di commuoversi e di vibrare a tutte le sensazioni ecco questo è importante l'uomo se mantiene questa sua capacità di commuoversi e di essere sensibile a tutte le sensazioni anche se adulto rimane un fanciullino non perché è un idiota o uno scemo ma perché diciamo così mantiene la purezza di un bambino invece tante persone crescendo diventano aride non sanno più commuoversi non sanno più essere sensibili nei confronti delle sensazioni degli altri queste persone che sembrano dei grandi adulti in realtà sono delle persone vuote e come dire aride e quindi hanno perso il loro fanciullino e noi questo fanciullino cioè questa capacità di commuoversi e di apprezzare i sentimenti lo troviamo in tutte le poesie scalpitio scalpitio è una poesia musicale parla di tutto l'arco della vita tu sei piccolo e il galoppo il galoppo della morte lo senti lontano poi arriva piano piano ma tu non sai quando e arriva la morte questa poesia parla anche del fatto che all'epoca la mortalità infantile era molto elevata i bambini venivano nascevano nelle abitazioni e non negli ospedali ed erano e c'erano molti rischi anche però parla anche di il fatto che la vita e la morte vanno insieme ma soprattutto questa è una poesia musicale si sente un galoppo lontano è la che viene che corre nel piano con tremula rapidità un piano deserto infinito tutt'ampio tutt'arido uguale qualche ombra d'uccello smarrito che scivola simile astrale non altro essi fuggono via da qualche remoto sfacevo ma quale ma dove gli sia non sa nella terra nel cielo si sente un galoppo lontano più forte che viene che corre nel piano la morte la morte la morte quindi abbiamo la musicalità del verso pascoli è quello che più di tutti ha cercato questa musicalità nei versi ne abbiamo un esempio in tre poesie che sono definite poesie impressioniste perché perché sembrano una fotografia pascoli fotografa la natura con le parole i fotografi fotografano con la macchina fotografica e la pellicola ma qui abbiamo delle vere fotografie create con le parole quindi sono fotografi ma sono poesie che lasciano una impressione molto forte un bubolio lontano rosseggia l'orizzonte come affocato a mare nero di pece a monte stracci di nubi chiare tra il nero un casolare un'ala di gabbiano ecco la fotografia abbiamo anche le parole onomatopeiche cioè parole che sembrano dei suoni che si verificano effettivamente nella natura bubolio il lampo e cielo e terra si mostrò qual era la terra ansante livida insussulto il cielo ingombro tragico disfatto bianca bianca nel tacito tumulto una casa apparì sparì d'un tratto come un occhio che è largo e sterrefatto saprì si chiuse nella notte nera quindi sia il temporale che il lampo e poi anche il tuono possono rappresentare degli eventi che capitano nella vita dell'uomo questi eventi possono essere terribili oppure possono essere degli eventi passeggeri ma percepiti come gravi da parte di chi li subisce e allora e allora c'è una sola soluzione sono gli affetti come pascoli ci dice nella poesia il suono e nella notte nera come nulla a un tratto col fragordardo di rupo che frana il tuono rimbombò di schianto rimbombò rimbalzò rotolò cupo e tacque e poi rimareggiò rinfranto e poi vanì soave allora un canto su di di madre e il moto di una culla e allora queste tre poesie si chiudono con questa affermazione soave un canto su di di madre e il moto di una culla di fronte alle vicende della vita tu hai una sola una sola sponda un solo appoggio un solo aiuto è quello dei tuoi affetti degli affetti più cari primo fra tutto ovviamente l'affetto fondamentale della tua vita quindi quello di tua madre in queste poesie ci sono anche delle allitterazioni nella notte nera come nulla queste ripetizioni di suoni sulla stessa sullo stesso verso si chiamano allitterazioni le allitterazioni sono diverse rispetto alla rima perché la rima è tra un verso e l'altro invece qui abbiamo una ripetizione del suono sullo stesso verso e poi notate che queste poesie vanno lette imitando un po il suono che le parole vogliono riprodurre rimbombò non rimbombò ma rimbombò perché c'è tutto il mistero del rumore del tuono che anche qui viene fotografato attraverso le parole poi abbiamo l'ora di barga pascoli parla con la morte perché lui in questo caso conversa con questa campana che lo chiama dici tu dici è l'ora tu dici è tardi voce che cadi blanda dal cielo pascoli è tranquillo in campagna di fianco a lui un po più lontano c'è questo paesino la campana batte i rintocchi si è fatto tardi è rimasto lì nel pomeriggio forse a correggere i suoi compiti a guardare la natura a pensare la campana potrebbe richiamarsi a sua mamma quando lui era bambino in campagna i bambini giocano in campagna con i loro amichetti vanno lungo i fiumi le pozzanghe costruiscono delle cose con i pezzi di legno la mamma li chiama perché ora di cena giovanni giovannino torna allora la campana potrebbe ricordare la mamma che lo chiama per l'ora di cena e i bambini che resistono un momento un momento e poi alla fine torna tornano a casa per la cena ma il verso più importante è quello finale perché dice che la campana lo persuade nel suo cantuccio cioè nel posto dove pascoli se ne sta tranquillo riparato coccolato la campana lo persuade cioè lo convince gli dice è tardi è l'ora e lui risponde sì ritorniamo dove sono quelli che amano ed amo ma quelli che lui ama e quelli da cui lui è amato sono morti sono i suoi familiari resta solo una sorella pascoli e quindi vuol dire che non tanto che l'unica cosa da fare è morire perché i tuoi affetti sono scomparsi ma che la vita non ha senso senza gli affetti senza le persone care ed è questo vuoto che lui si porta dentro e che ci vuole comunicare ci vuole dire proprio che noi ci dobbiamo circondare dagli affetti e infatti nei suoi ricordi lui dice guarda che lasci dentro il mio cuore che io viva del mio passato per esempio se io trovi un bacio che non ho dato ecco il suo insegnamento cerchiamo di non lasciarci dietro dei rimpianti perché i rimpianti rovinano la nostra vita e soprattutto rovineranno la nostra vecchiaia se c'è da dare un bacio diamo questo bacio ma poi non rimpiangiamo di non averlo dato il gelsomino notturno il gelsomino notturno parla di due di una coppia di amici che si sono appena sposati la parte più importante di questa poesia sono diverse è una bellissima poesia però questa è una bella metafora un'ape tardiva sussurra trovando già prese le celle e naturalmente questa è una antropomorfizzazione cioè un'ape ha dei comportamenti umani e infatti è come se fosse un bambino che rientra a casa tardi alla sera ma trova tutti i posti occupati per esempio a cena perché appunto la madre lo ha chiamato lo ha chiamato a lungo lui arriva in ritardo e come scherzo non gli fanno più trovare apparecchiato quindi è come se un'ape tardiva quindi che arriva tardi trova già presa la sua cella nell'alveare la chiocetta per laia azzurra va col suo pigolio di stelle importante questo perché è una metafora ed è la metafora dell'orsa maggiore se voi osservate l'orsa maggiore sembra che sia una chioccia quindi una mamma una mamma gallina che per laia azzurra l'aia azzurra sarebbe non l'aia della fattoria ma del cielo nel cielo azzurro si porta dietro suo pigolio di stelle le stelle non pigolano ovviamente anzi non emettono suoni a noi udibili quindi abbiamo un'altra sinestesia ed è una bella figura perché pascoli umanizza ciò che ci circonda addirittura all'universo quindi la costellazione dell'orsa maggiore sembra la mamma chioccia che si porta a spasso i suoi piccolini quindi ancora un richiamo alla famiglia e agli affetti però poi quando i loro amici salgono su in camera da letto per concepire per cercare di avere un figlio pascoli dice io non so quale felicità nuova si determinerà se sarà un maschio se sarà una femmina se ci sarà dentro che cosa dentro l'urna molle segreta l'urna l'urna è il contenitore delle ceneri del defunto e che viene associato che cosa a una nascita quindi all'utero materno l'urna e l'utero sono è un'associazione molto strana ma è un'associazione che ci indica come in scalpiti io che la morte e la vita sono inseparabili la mia sera la mia sera è una poesia che parla di un temporale che è capitato durante il giorno durante questo temporale le rondini non hanno avuto modo di nutrire i propri figli e e dice la poesia la fame del povero giorno prolunga la garula cena la parte cioè la parte di cibo per quanto piccola si piccola i nidi nel giorno non l'ebbero intera le mamme rondini non hanno potuto sfamare i loro rondini però pascoli aggiunge né io strano perché pascoli avrebbe potuto uscire di casa con un ombrello andare da un salumiere per farsi un bel panino col salame ma qui il problema non è che si parla veramente del cibo si parla dell'affetto quindi piccoli sono stati trascurati perché le mamme non hanno potuto andare a caccia del cibo dato il temporale e anche pascoli però si è sentito trascurato perché non ha avuto il suo affetto e poi anche questa poesia si chiude con una sinestesia voci di tenebra azzurra naturalmente la tenebra se è buia non può essere azzurra e poi non può essere una voce quindi una bellissima espressione questa voci di tenebra azzurra perché perché dall'oscurità si sente la voce azzurra quindi piena di speranza piena di tranquillità di chi di sua madre mi sembrano scanti di culla che fanno che io torni com'era sentivo mia madre poi nulla sul far della sera poi c'è il mago per merlino una bellissima poesia autironica molto simpatica anche questa basata sulla musicalità del verso merlino così mattiniero dove vai col cane tuo nero ci siamo divertiti anche in classe a declamare questa poesia al suono di questi versi merlino è un mago è il mago della mitologia la mitologia druda del cavaliere della tavola rotonda ed è essendo un mago costruisce le sue pozioni infatti merlino dice qui lovo ricerco del drago lovo rosso in riva lago il vischio nel bosco sul fonte l'erba d'oro su per il monte merlino dice pascoli convertiti al monte lascia l'erba il vischio sul fonte e lascia sul greppo del lago lovo rosso lovo di drago merlino 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 dio è il mago dio l'indovino quindi pascoli dice a merlino che per quanto lui possa creare delle pozioni in realtà il vero creatore il vero mago è dio ma con chi sta parlando realmente pascoli beh lui parla a se stesso cioè parla agli artisti dice che in fin dei conti gli artisti sono gli unici che hanno il potere di creare mondi di cambiare le cose di inventare ma questo potere non è un potere reale è il potere della fantasia e quindi pascoli dice a se stesso che bisogna rendersi conto dei limiti del nostro potere e di non prendersi troppo sul serio è autoironia e l'autoironia cari ragazzi è una dote molto difficile da coltivare poi passiamo a gabrile d'annunzio è interessante il trucco che lui ha scogitato della sua stessa morte quando era giovane ed era uno studente di liceo per creare una sua prima fama intorno a sé scrive delle poesie poi manda una lettera ai giornali dicendo che un giovane ragazzo che ha scritto delle poesie molto belle è morto è morto all'età di 16 anni i giornali quotidiani non possono scrivere delle cose negative su un povero figliuolo di 16 anni che ha scritto delle poesie ed è morto e quindi elogiano le sue poesie a un certo punto d'annunzio fine fuori e dice siete tutti degli ingenui vi ho fatti fessi tutti quanti il poeta che ha scritto quelle poesie sono io sono vivo non sono morto e adesso se avete il coraggio ritirate le vostre critiche cambiate la vostra opinione i giornalisti fanno una figuraccia lui dire comincia a diventare famoso e già all'età di 16 anni si afferma per quello che poi sarà il grande d'annunzio naturalmente la vita la vita come opera d'arte ma su questo sorvogliamo è molto conosciuto questo tema la pioggia nel pineto eccolo qua lui attraversa questa pineta con la sua fidanzata eleonora d'use la grande attrice dell'epoca ma questa eleonora d'use è chiamata ermione perché perché ermione è la figlia di elena la più bella donna dell'antichità talmente bella che è stata rapita e per la quale è scoppiata una guerra la famosa guerra di troia è chiaro che se ermione è la figlia di elena avrà altrettanta bellezza e quindi ecco che lui è sì con eleonora d'use ma in realtà è accompagnato in questa pineta dalla bellezza e che cosa fanno in questa pineta ascolta ascolta piove dalle nuvole sparse piove sulle tamerici salmastre ed arse piove sui pini scagliosi dirti piove sui mirti divini sulle ginestre fulgenti di fiori accolti sui ginepri folti di coccole olenti piove sui nostri volti silvani piove sulle nostre mani nude sui nostri vestimenti leggeri sui freschi pensieri che l'anima schiude novella sulla favola bella che ieri ti illuse che oggi mi illude o ermione quindi loro ascoltano questa orchestra l'orchestra che sarebbe poi il linguaggio della natura secondo d'annunzio ci colleghiamo a baudelaire alla poesia corrispondenze ascoltano quest'orchestra e mentre viaggiano in questa pineta ecco che loro si trasformano si trasformano nella natura stessa parda scorza tuesca dice d'annunzio a un certo punto e continuano ad ascoltare il pino un suono e il mirto altro suono e il ginepro altro ancora strumenti diversi sotto innumerevoli dita e immersi noi siamo nello spirito sirvestre d'arborea vita viventi e quindi qui inizia questa trasformazione ma da non si ricorda tutto questo arriviamo alla fine è una favola bella sulla favola bella che ieri mi illuse che oggi ti illude o ermione qual è l'illusione l'illusione è che la trasformazione nella natura la loro identificazione con la natura non è altro che una fantasia e quindi loro non possono mantenere l'immortalità della natura e la bellezza straordinaria che la natura conserva fin dalla notte dei tempi perché perché la loro bellezza e la loro vita sarà destinata a decadere la sera fiesolana la sera fiesolana è una poesia straordinaria bellissima che parla molto romantica che parla del corteggiamento abbiamo la luna che sta emergendo la luna diventa un volto il volto della sua donna amata il tramonto diventa una cintura che cinge la vita di questa donna e lui corteggia lui sta corteggiando il tramonto cioè sta corteggiando proprio la sera laudata sì per il tuo viso di perla o sera e per i tuoi grandi umidi occhi ove si tace l'acqua del cielo dolci le mie parole nella sera ti sien come la pioggia che bruiva tiepide e fuggitiva commiato lacrimoso della primavera sui gelsi e sugli ulmi e sulle viti i suoi pini dei novelli rose i diti che giocano con laurea che si perde eccetera eccetera e poi dice laudata sì per le tue vesti aulenti o sera e per il cinto che ti cinge come il salce il fienchio d'ora io ti dirò verso quali reami d'amor ci chiama il fiume le cui fonti eterne l'ombra degli antichi rami parlano del mistero sacro dei monti e il mistero sacro dei monti sono i seni perché i monti sono collocati c'è la luna poi c'è sotto ci sono i seni quindi i monti poi c'è il tramonto che la cinge quindi lui porta la sera lungo il fiume lungo il reame dell'amore e poi la poesia si conclude con questi versi audata sì per la tua pura morte o sera e per l'attesa che in te fa palpitare le prime stelle quindi ciò che è bello dice d'annunzio è il corteggiamento è corteggiare la propria donna e desiderarla e fare qualcosa per lei accompagnarla perché poi il desiderio si spegne si spegne nella notte e quindi c'è la dialettica tra piacere desiderio e la contraddizione che il desiderio viene soddisfatto attraverso la sua uccisione uccidendo il desiderio cioè attraverso il godimento il desiderio muore prima c'è il desiderio noi desideriamo bere a una fontana beviamo e non abbiamo più questo desiderio il desiderio è ucciso quindi il massimo godimento il massimo piacere coincide con la morte del desiderio stesso ma il desiderio però si rigenera altrimenti noi moriremmo di sete ovviamente poi abbiamo meriggio meriggio è la poesia della trasformazione totale anzi della sostituzione d'annunzio si trasforma nel mezzogiorno nel meriggio è l'isdraiato il sole sulla spiaggia fa molto caldo il sole lo colpisce c'è questa sensazione di essere un tutt'uno con la natura che sarà capitato d'estate un po a tutti bene è questa sensazione di cui lui parla prima non si muove niente tutto è silenzioso guarda intorno a lui la natura dà dei nomi ci sono le alpi ci sono i fiumi boschi di san rossore dice il gombo il serchio nomina i fiumi dormono i monti pisani coperti da inerti cumuli di vapore coperti da inerti un'altra allitterazione piena di allitterazioni questa poesia quindi c'è bonaccia calura per ovunque silenzio l'estate si matura sul mio capo come un pomo che promesso mi sia che cogliere io debba con la mia mano che suggere io debba con le mie labbra solo perduta è ogni traccia dell'uomo voce non suona se ascolto ogni duolo umano ma abbandona non ho più un nome e sento che il mio volto si indora dell'oro meridiano e che la mia bionda barbari luce come la paglia marina sento che il lido rigato così delicato lavoro dell'onda e dal vento è come il mio palato è come il cavo della mia mano ove il tatto si affina e la mia forza supina si stampa nell'arena diffondesi nel mare e il fiume è la mia vena il monte è la mia fronte e la selva è la mia pube la nube è il mio sudore e io sono nel fiore della stiancia nella scaglia della pina nella bacca del ginepro io sono nel fuco nella paglia marina in ogni cosa esigua in ogni cosa immane nella sabbia contigua nelle vette lontane ardo riluco e non ho più un nome e poi dice non ho più un nome né sorte tra gli uomini ma il mio nome è meriggio in tutto io vivo tacito come la morte e la mia vita è divina ed ecco che qui avviene il contrario rispetto alla pioggia nel pineto non è lui che diventa si trasforma si identifica nella natura ma qui è lui che diventa la natura stessa e la natura assiste a questo spettacolo a un certo punto dice la mia forza supina si stampa nell'arena ecco noi facciamo così facciamo nell'arena è un termine toscano per indicare la sabbia ma scritto appunto in questo modo anche come lo scrive lui abbiamo un doppio significato lui è effettivamente sdraiato sulla sabbia ma è come se lo spettacolo si sviluppasse all'interno di una di una arena e lo spettacolo non è l'essere umano ma è la natura la natura sta osservando la nascita di un nuovo dio e questo dio è d'annunzio e vive tacito come la morte perché si è spogliato dei suoi abiti immortali è diventato la natura stessa poi abbiamo luigi pirandello luigi pirandello ne abbiamo parlato tanto anche le maschere quindi la necessità di adottare delle maschere per vivere ma il problema di non esserne schiavo di queste maschere e poi ci sono le maschere che vengono attribuite dagli altri cioè la reputazione che noi possiamo avere anche non volendo e quindi molto attuale perché oggi ci sono i social e sapete è molto complicato anche esporsi essere fraintesi perché subito ti viene appioppato un'etichetta che è difficile poi da togliere e poi c'è il comico il comico l'umorismo che è l'avvertimento del contrario vi ricordate l'esempio della signora anziana che si veste come una ragazzina perché vuole mantenere l'affetto del marito che è più giovane e quindi dice pirandello dietro ciò che ci fa ridere cioè il contrario della realtà questa signora anziana che si veste come una ragazzina può suscitare una risata ma dietro c'è una tragedia se noi andiamo a scoprire infatti l'essere umano spesso dietro alla comicità nasconde delle tragedie un esempio chiaro è la comicità di Charlie Chaplin e un'altra è quella di Fantozzi Paolo Villaggio il Fumatia Pascal questa storia incredibile che ci dice che l'uomo ha bisogno della sua identità anzi per la società l'uomo è essenzialmente un documento una carta identità senza documenti non sei niente quest'uomo cerca di cambiare vita cambia nome approfitta di questa occasione per cui trovano un cadavere e lo attribuiscono a lui lui sparisce con una vincita ricavata a un casino ma si rende conto che non si può sposare non può denunciare un furto non può neanche prendere un cane perché per tutto questo ci va una identità un documento dunque per la società noi siamo dei documenti siamo dei numeri nessuno va a vedere chi siamo veramente nessuno va a vedere i nostri sentimenti le nostre capacità no per la società noi siamo un documento e quindi alla fine lui ritornerà a casa ma sua moglie si è sposata ha dei figli fortunatamente quest'uomo mantiene ancora un po' di senno e un'etica e quindi non si presenta a sua moglie che si è ricostruita una vita e addirittura sarà ospitato dal parco del paese e andrà a depositare dei fiori sulla propria tomba quindi è un finale allo stesso tempo sia ironico che grottesco poi c'è il treno affischiato l'impiegato belluca che è oberato oberato in casa mantiene cinque persone oberato sul lavoro si porta il lavoro a casa non ce la fa più dorme su un divano e a un certo punto sente il treno fischiare ma questo treno non esiste è il frutto della sua fantasia e così però così non è per belluca e infatti belluca che cosa fa pensa di salire su questo treno e viaggia viaggia in asia in russia al polo nord vede i leoni e le foreste ma tutto questo non è vero è il frutto della sua fantasia mentre lui è in ufficio lui è lì in ufficio e a un certo punto ha delle assenze e in queste assenze lui fa dei viaggi belluca viene ricoverato in manicomio un suo collega lo va a trovare e cercherà di spiegare a tutti che cosa è successo signori dice belluca era troppo stressato e allora belluca troverà un accordo con il suo capo ufficio lo fanno uscire dal manicomio riprenderà a lavorare ma il suo capo ufficio gli lascerà dei momenti di evasione si fa in un attimo signor cavaliere mio ora che il treno ha fischiato quindi la follia come evasione come difesa dallo stress della vita ma la follia come difesa dallo stress della vita c'è anche nella cariola questo avvocato che torna a casa e si rende conto che leggendo la terghetta dottor professor che incide le sue credenziali sull'uscio di casa sua si rende conto che non è quella la vita che lui avrebbe voluto fare probabilmente è stato portato dai genitori a fare l'avvocato ma lui dice spaventosamente d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la sua busta di cuoio sotto il braccio l'uomo che abitava là in quella casa non ero io non ero mai stato io con obbito un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa eh certo come sempre assente da quella casa e allora lui farà la cariola col suo cane un po' come belluca cioè si ritaglia un momento di follia non ha il coraggio di rompere non ha il coraggio di cambiare vita però si rifugia in questa stranezza per cui si prende una parte della giornata per fare dei giochi con il suo cane allora di nuovo abbiamo la follia come strumento di difesa che ti protegge dallo stress e infine la patente la patente è questo iettatore che parla della maschera che ti è attribuita dagli altri la tua reputazione la reputazione di Echiarchiaro è completamente rovinata in questo paese pieno di pregiudizi la gente pensa che Echiarchiaro sia uno iettatore e allora lui chiede al giudice di avere la patente la patente da iettatore per poter lavorare e quindi cerca di far di trasformare un problema in una virtù e quindi è interessante perché questo racconto ci mostra come sia complicatissimo togliersi una maschera un'etichetta che ti ha attribuito dagli altri la voce circola tutte le persone anche quelle che non vi hanno conosciuto si convincono tutti dicono sei così sei cos'ha sei un oiettatore sei non lo so quello che è e voi rimanete imbrigliati in questa maschera per cui vi dico attenzione grandissima attenzione ragazzi perché oggi con i social è ancora più pericoloso di una volta rimanere imbrigliati in qualche etichetta che vi rovina completamente poi c'è l'enrico quarto anche questa è la follia che diventa un mezzo per difendersi Enrico quarto continuerà a credersi Enrico quarto nonostante poi rinsavisca perché per non vedere il tradimento di sua moglie cioè per chiudere la realtà di fronte a lui non per come dire ignorare la realtà non prenderne atto fuggire dalla realtà e poi la vicenda finisce in un bagno di sangue veniamo a Italo Svevo Italo Svevo ha scritto La coscienza di Zeno che è il libro di cui ci siamo occupato ma prima bisogna dire Trieste Trieste è città cosmopolita crocivia lingue viaggi merci oriente Europa dell'est lingue slave lingue germaniche Germania rapporti con l'Inghilteria con la Gran Bretagna Londra la Borsa quindi città al centro di un via economico ma anche culturale e infatti Italo Svevo cioè Ettore Schmidt sarà un grande amico di James Joyce e da lui da lui prenderà le tecniche di scrittura come il monologo interiore eccolo qua e il flusso di coscienza monologo interiore parlare con se stesso quindi strutturare un romanzo come un dialogo con se stessi invece flusso di coscienza lasciarsi andare ai vari ricordi e quindi non strutturare un romanzo come una biografia cioè da quando sei nato gli elementi più importanti poi via via in ordine temporale non c'è ordine temporale in questo romanzo c'è un ordine come dire stabilito per argomenti uno di questi argomenti è il fumo nella parte in cui lui ricorda quando era bambino questo zeno ricorda quando era bambino come era coccolato dalla mamma era molto attaccato a sua mamma voleva l'affetto della mamma e quindi era in conflitto con il fratellino più piccolo e per di più voleva anche prendere il posto del padre voleva diventare come il padre e per questo ha iniziato a fumare e questo vizio del fumo sarà un vizio che si porterà presso tutta la vita quindi qui parliamo del complesso di Edipo e entriamo nel mondo psicoanalitico un mondo che lui ha conosciuto molto bene e che appunto tende a riproporre attraverso questo romanzo che si intitola La coscienza di Zeno e che riproduce i meccanismi della psiche umana che sono stati scoperti dalla psicoanalisi li riproduce nella forma non di un saggio ma di un romanzo poi abbiamo Giuseppe Ungaretti Giuseppe Ungaretti che parte in guerra convinto e poi invece si trova che al fronte scrive delle poesie molto importanti contro la guerra perché capisce che cosa succede per esempio in Veglia lui dice che nel mio silenzio ho scritto lettere piene d'amore e lì vicino a un compagno massacrato lui capirà l'importanza della vita e l'importanza del voler bene agli altri esseri umani non sono mai stato tanto attaccato alla vita scrive Giuseppe Ungaretti San Martino San Martino è un'antropomorfizzazione è un paese che viene distrutto ci sono brandelli di mura le mura quindi il cemento le case soffrono come soffre un essere umano di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto ma nel cuore nessuna croce manca è il mio cuore il paese più straziato quindi veramente sono poesie nelle quali si riscoprono gli affetti lui inventa la cosiddetta frammentazione del verso ma lo fa perché è in guerra in guerra non può scrivere seduto a un tavolino deve scrivere su dei pezzetti di carta prendere degli appunti scrivere delle parole e poi cercare di rimettere tutto insieme così nascono le poesie di Ungaretti e poi c'è i fiumi il fiume è una grande poesia che lo fa riflettere lo fa riflettere sui fiumi della sua vita Lisonzo ovviamente è quello più importante perché Lisonzo lui dice questo è Lisonzo il fiume della guerra il fiume in cui mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo cioè ha capito che la sua vita di fronte alla guerra non vale niente è come un granello di sabbia nell'universo e quindi conclude questa poesia dicendo questa è la mia nostalgia ora che è notte e che la vita mi pare una corolla di tenebre cioè la vita è un fiore avvolto dalle tenebre ricordo ovviamente la Senna che è il Parigi lì ha conosciuto altri artisti altri poeti e si è scoperto essere un poeta anche lui e quindi questa è una poesia della riflessione del tornare indietro è una poesia che rimette le cose a posto lui che aveva dedicato il libro il porto sepolto a Mussolini quindi Ungaretti aveva diritto al movimento fascista eppure nonostante avesse diritto al movimento fascista scrive una poesia come Fratelli che dice che alla fine i soldati sono dei giovani fogli appena nate strappate alla loro vita buttate nella guerra e quindi il termine Fratelli aiuta ad andare avanti siamo tutti fratelli e nel suo diario lui scriverà che anche il nemico per lui è un fratello perché non esiste nemico amico esistono solo delle persone vedete un atteggiamento molto curioso perché nel momento in cui lui aderisce al fascismo però allo stesso tempo Ungaretti tira fuori una umanità straordinaria che il movimento fascista ovviamente negava poi il porto sepolto è una poesia che parla del poeta del poeta che deve essere in contatto con se stesso con il suo porto sepolto ricordando anche il porto sepolto romano di Alessandria d'Egitto deve essere in contatto con se stesso per poter scrivere la poesia tocca l'intimo del poeta e lui questo intimo lo regala lo regala a qualcuno perché gli disperde i suoi canti quindi l'artista scrive per dare per dare agli altri qualche cosa di se stesso e infine abbiamo canto Beduino una poesia che parla della donna una donna truda una donna magica che è capace di affrontare la natura ma che è capace anche di sognare e allo stesso tempo di stare con i piedi per terra questa terra è nuda questa terra è nuda questa donna è truda questo vento è forte questo sogno è morte e poi per concludere abbiamo eugenio montale eugenio montale i limoni i limoni è una poesia scritta contro la poesia la pioggia nel pineto di D'Annunzio ascoltami dice montale taci dice giuseppe un gare dice gabrile D'Annunzio i poeti laureati cioè i poeti che hanno la laurea in testa e l'auro la corona quelli incensati quelli istituzionali quelli riconosciuti da tutti eccoli lì si muovono soltanto fra le pianti dai nomi poco usati usano un linguaggio raffinato invece dice montale a me piacciono la campagna piacciono i ragazzi che vedete ragazzi che giocano mi piacciono gli alberi di limoni cose semplici la vita di tutti i giorni perché perché in campagna qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra io vado in campagna non per esaltarmi come fa D'Annunzio non per diventare il dio della natura o chissà che cosa ma io vado per essere tranquillo perché la vita è uno stress ci sono delle passioni dentro di noi che si divertono a fare che cosa a fare una guerra quindi ci sono dei conflitti interiori e quando sono in campagna tranquillo anche con una semplice con un semplice odore di limone o vista di queste piante io mi sento tranquillo perché la guerra interiore tace e allora non c'è niente di più bello che vedere un giorno degli alberi di limoni da un cortile perché vuol dire che la primavera sta tornando e possiamo ritornare in campagna non chiederci la parola è una poesia straordinariamente attuale oggi perché lui dice noi non abbiamo delle parole precise da darti io non so chi sono non so neanche dirti quale mondo voglio quale futuro e non me lo so neanche immaginare questo futuro e anzi posso dirti che gli uomini che se ne vanno sicuri pieni di sé narcisisti e non si guardano che la loro ombra invece viene proiettata su una società che va rotoli questi uomini qui sono proprio strane queste persone e io non voglio essere come loro ecco l'unica cosa che posso dirti è questo io posso dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo e soprattutto non vogliamo essere come loro e allora guardate ragazzi che l'attualità di questa poesia è straordinaria oggi che noi siamo costretti in casa perché tante persone se sono andate così sicure tranquille non hanno se ne sono disinteressati degli altri e quindi non hanno adottato le regole elementari hanno detto oh ma tanto muoiono i vecchi io sono giovane vado in giro a me questo coronavirus non interessa ecco questo genere di persone è quello che rovina la società e Montale ci dice guarda io non so dirti che società voglio vivere come sarà non sono un filosofo anche se la mia poesia è filosofica ma quello che posso dirti è che io non voglio essere come loro con l'ultima poesia chiudiamo questa carrellata di lezione diciamo così di ripasso di tutto quello che abbiamo fatto per quanto riguarda la poesia e non la lettura di romanzi poesia e narrativa ma non lettura di romanzi integrale che sarà oggetto di un'altra lezione un altro ripasso spesso il male di vivere lui ci dice contrariamente a quello che pensa Baudelaire è che il male di vivere si incontra nel rivo strozzato che gorgoglia nel cavallo che muore cioè si trova intorno a noi Baudelaire in splin ci dice che il male di vivere è dentro di noi ma dice anche Montale io non seppi fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza cioè lui capisce che c'è una soluzione una soluzione essere indifferenti ma è possibile essere indifferenti lui non capisce come si possa attuare verificare questo prodigio per cui uno un soggetto rimane come dire addormentato insensibile come il meriggio e qui il riferimento ad annunzio ad annunzio come una nuvola alta come un falco cioè come qualcosa di molto distaccato dal mondo ecco perché il mondo ha i suoi problemi e se noi non ce ne occupiamo risultiamo indifferenti ma se risultiamo indifferenti il mondo andrà avanti con i suoi problemi si aggraverà e quindi questa è una poesia contro l'indifferenza umana contro chi se ne frega dei problemi e dunque anche questa è una poesia molto attuale e quindi concludiamo così questa carellata che spero che poi ascoltandola vi dia proprio l'impressione dell'organicità di quello che abbiamo fatto dell'importanza della letteratura e così vi faccio anche ricordare quello che avete studiato di figuren di figuren di figuren o di figuren di figuren Grazie per la visione!